Allora vi dico quale sarebbe la sfida che ora propone 1500 potatine si Si comincia con le armi che si possono solo pescare da lì tu puoi aprire i forzieri e prendere le cure i maz e E i colpi ovviamente ma non le armi bello l'ho fatto l'ho fatto la sfida così l'ho vinta pure Puoi prendere anche il floor loot Basta che siano cure tutte le cure in floor loot le puoi prendere però no però non puoi non puoi far male Poi non puoi far male e no ma i mazzi si possono prendere quello dei nemici una volta che tu killi qualcuno per prendere tutto quello che vuoi I mazze delle ceste no sì i mazze delle ceste sì ma non puoi far male non puoi prendere le armi puoi prendere tutto quello che vuoi dai Cadaveri ma non le armi Sa quale armi quale canna serve quella buona Sì ho un amico che sa quelle buone non l'ho mai visto pescare però Sapete che io non ho ancora tirato su un'arma sì anch'io lo sa che io ancora non ho canna di pesca cosa sa Raga raga questa challenge non è fattibile come no certo è fattibile Ma non ce la fai non abbiamo ma si Eh non possiamo prendere le armi Esatto Eh ok Ma finché non le peschiamo stai c***o di armi Oh pistura Guarda che cosa ho trovato qua anche bello Aspetti Bene molto bene Figa o è l'unica safe Oh bello il pump bianco easy Ma prima di andare avanti con il video ragazzi voglio ricordarvi la mega promozione di level up di questa settimana Con il codice Xiuderone avrete il 20% di sconto su qualsiasi prodotto acquisterete dallo shop Ovviamente il link lo trovate nella descrizione del video e volevo condividere con voi la mia top 3 assoluta di level up Come vedete io ne ho tantissimi sia in questa postazione che nell'altra li ho provati tutti ma secondo me a partire dalla terza posizione i più buoni sono il crazy monkey che ha come sapore un mix tra ciliegia e banana Molto molto buono Alla seconda posizione uno dei miei preferiti ragazzi il galaxy ne ho addirittura due confezioni il galaxy ha un altro mix di acai mirtillo e melograno L'acai è un frutto molto molto particolare molto esotico ma per tutti quelli che mi seguono e mi conoscono il numero uno indiscusso nonostante sia già un bel po che io l'abbia provato Rimane il burning fear ragazzi questo è davvero top non mi stancherò mai di dirvelo ha un mix esotico di papaya mandarino e guava anche il guava è un frutto tropicale Io non so ragazzi come non abbiate fatto ancora ad assaggiarlo sapete che cosa vi dico andiamo ad assaggiarlo insieme Mezzo litro d'acqua un misurino di level up Shake 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 ed eccolo qui ragazzi tre passaggi per avere il nostro level up pronto andiamo all'assaggio Mamma mia ragazzi il burning feeder è imbattibile davvero super buono mi raccomando ragazzi level up fatto dai gamer per i gamer Barche in arrivo what the fuck puncher Io sono lontano torniamo indietro da netto l'unica safe dove non c'è neanche un pezzettino di mare In safe veramente una sfiga enorme questa non si può busciare questo gioca chill ma dall'uccello posso prendere può prendere dall'uccello Ora io non io 8 flop per una valanga di pesci piccoli e un pompa bianco Ma quindi io non ho capito quando uscidiamo un player cosa prendiamo? Mazza e cure Quattro flop per quattro slasher Ho pescato una cappa Almeno è un'arma god Ci siamo Venga qua Oh Mi faccio la tripletta prendo anche il pump Spiderman davanti a noi Lì Vuole ributtare da solo Le cure da terra? Ragà 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 Si si da terra si Vai Punisher ora che devi busciare Morto Nice Non prende armi Prendi di tutto tranne le armi Full full 300 Nice Anch'io gli ho preso un botto 454 70 90 Bella sta sfida Cerchiamo un riparo naturale Poi il cespuglio Qui sotto gente qui sotto gente No non possiamo fare Eh mi vedono Ok 21 white 21 white 21 white Si va si va Bravo 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 Questo è il nostro refresh Porto con la fioccina easy Nice Eh 75 fa troppo male la fioccina Non c'è cosa fare Ha ragione La fioccina è esagerata Figa Gente qua sotto Vieni vieni tu 54 doppie 54 Ci sono No 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 22 blu Doppi 33 22 crack Questi di qua lavorate Non morire Per forza Sono con Punisher Entro io Punisher Morto Lo portiamo in zona 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 Questo qua è one hit Su qua devi evitare qua Faccio un box Faccio un box Faccio un box 22 ancora 22 23 33 Andiamo da Nettuno Io potrei entrare io con la fioccina Porto 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 Dovremmo andare subito in safe Mi devo fare questo No c'è non mi serve Ok fatelo 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 tutti e due Sei senza cura Dove la mia fioccina Va bene tieni io tengo la medicina Da dove possiamo prenderla Qui c'è quella full di medicina Eh la prendo la prendo la prendo C'è 145 Andiamo Buono che si fightano Meti nebbia Prega c***o 145 easy Non mi fermo Siamo in 9 4 team Siamo Maaaaa E chi no dentro c'è spuglia Vieni punishare non possiamo lasciarlo lì Nettuno Ma no ma no Xiu non possiamo neanche restarlo Nettuno Ma Nettuno non è morto Va beh Uuuu Xiu abbiamo l'azzurra Merda Non c'era come è possibile perché io ero full hp, credo eh No, 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 non eri full, non eri full, ti mancava poco di shield E quello devi avere il cecchino oro, ti rendi conto? Quattro team Morto! L'altro Siamo in set, calmo Punisher One, one, questo lo pusho Sono dietro di te E un altro Ma un sistema metraglietta Non me la switch, parca Che paura Non me la switch E' un'altra cosa che si tratta Così di ferro, lei li alzo, lo ricorda Guardi dietro, guardi dietro Metallo e batture, metallo e batture Morto Oh, ne tu non ho switch Eh, non lo faccio più allora 19 white, uno dei due, l'altra polizona 19 white, 38 white Telescopi, telescopi, banisher, telescopi Uno, l'altro, l'altro 38 white gli ha fatto Vai banisher E' morto, è morto Let's go Let's go Let's go Let's go My god Easy Let's go Let's go Nice Nice GG Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go